La pioggia violenta precipitata ieri, soprattutto in Valdarda, non ha portato i benefici sperati. Anzi, i campi di frumento e mais sono stati danneggiati dalla forza dell'acqua e allettati dal vento. Danni su culture che ormai erano prossime a raccolta, mi riferisco in particolare al grano, perché questa mattina lo spettacolo è veramente impressionante, perché nelle zone colpite il grano è completamente allettato, schiacciato terreno, quindi con ingenti perdite di prodotto e costi anche per la sua raccolta sicuramente importanti. In certe zone come la Valtidone però l'acqua ha portato dei benefici? Sì, l'acqua dove è venuta in condizioni più soft, non associata a questa tromba d'aria, è assolutamente di grande beneficio, perché ha abbassato intanto le temperature, ha rinfrescato e ha mollato la morsa di quella che era una siccità, in quanto i giorni a venire sicuramente sono ancora previsti molto caldi, per cui un po' di respiro l'ha portato e questo va molto bene. Ma la situazione di estrema aridità del terreno rimane critica? Rimane critica perché le previsioni che abbiamo davanti sono di forte caldo, per cui tra qualche giorno si va a riprendere l'irrigazione e purtroppo l'acqua non è entrata nelle dighe, perché è la cosa che è più forte e molto nella bassa, ma su nelle dighe non c'è stata acqua che è entrata, per cui le dighe rimangono vuote. In più le verifiche effettuate in questi giorni dai consorsi di bonifica dell'Emilia-Romagna consegnano un dato allarmante. I terreni agricoli hanno raggiunto il limite per la sopravvivenza delle coltivazioni agricole e nelle prossime due settimane quella che oggi è già una situazione di emergenza supportata da dati inequivocabili potrebbe trasformarsi in poche settimane in un'emergenza catastrofica, scatenando conflitti per l'acqua tra territori e danni colossali per l'intero agroalimentare regionale. Intanto è stata diramata un'allerta meteo fino a mezzanotte di domani. C'è la possibilità infatti che i fenomeni di nubi fragi e acquazzoni possano ripetersi. Grazie.